Partiti! Che numero! Tenta di rubare... Ha insistito troppo, doveva liberarsi del pallone. Isco. Mascara. Tira in molla per il possesso palla. Può creare una nuova azione. Lazzari. Madri. È da solo! Non trattiene! E il difensore ferma l'azione. Cerca la rete! Di nuovo al portiere! Libera di testa. Affonda il contrasto. Madri. Nulla da fare, palla che esce. È partito bene in contropiede, ma non è riuscito a concretizzare. Lazzari. Madri. Acqua fresca. E gli avversari riconquistano la palla. Mascara. Prova a fermarlo. Ottimo! Occasione in vista! Accol. 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 Grazie a tutti.